Sto in Australia circa da 50 anni, 15 anni faccio parte di questo complesso bantistico chiamato Vincenzo Pumbellini. Ringrazio molto la regione Lazio di avermi dato l'onore di rappresentare un laziale musicante spasso nel mondo. Noi siamo in due nella regione Laziale che facciamo parte di questa banda, entrambi di Sunnino, l'altro sarebbe Samuele De Angelos, solo che lui è molto più giovane di me. La nostra banda è l'unica in Melbourne, ma forse l'unica in Australia, a quanto mi risulta. A parte marce meledare o marce sinfoniche, facciamo anche pezzi lirici, sinfonici e pezzi di opere, con cantante lirice e con soprano e tenore. Facciamo circa 35-40 lavori all'anno, la maggior parte sono processioni, ma anche con molti concerti. La nostra comunità italiana è molto orgogliosa di noi, facciamo solo del nostro meglio. Ancora una volta ringrazio la regione Laziale di avermi dato questa possibilità. Buongiorno a tutti, un caloroso saluto al signor Maurizio Cristoforo. Grazie di tutto. Scusate se stanno qualche sbaglio.